Nel Toscani sensore non facciamo niente. Andare a correre olive è un momento di festa. Rimani sempre sorpreso dalla bellezza e da come la natura si è sempre pronta a darti delle cose con grande generosità. Io ho messo queste panchine, una che guarda questo enorme campo dove alla mattina alle sette arrivano le pecore a pascolare e poi c'è quella groppa che ho chiamato la groppa del drago che serve per vedere il tramonto. Quando arriva il tramonto qua è uno spettacolo che ha i colori rosso, viola, gialli. Un bicchiere di vino rosso, un po' di pecorino toscano, di pienza e ti guarda il tramonto e ti fa un aperitivo straordinario. E qui ti risenti rifocillato interiormente. E poi c'è il silenzio, il silenzio che è una medicina che ti calma. Ti calma l'animo, ti calma la mente, sei in uno stato di quiete, di serenità e questa è la bellezza della natura.